Fino al 12 luglio è visibile nell'altro di Palazzo Lascaris l'esposizione in due vetrine di campioni di cristallo al mandino. L'allestimento prosegue la collaborazione tra il Museo di Scienze Naturali e il Consiglio regionale per le mostre temporanee a soggetto naturalistico con lezioni minime. Il cristallo, molto comune anche in Italia, è segnalato anche sul versante del Monte Cervandone, Alpe d'Evero, Verbano Cusiossola e nelle valli di Lanzo, Torino.